Oggi proviamo ad aprire una bottiglia di vino solo con un accendino In questo momento sto scaldando la zona che c'è tra la superficie del liquido e il tappo quindi nella zona dove c'è un po' di gas Aumentando la temperatura il gas si espanderà e quindi spingerà il tappo verso l'alto e non il liquido verso il basso perché il liquido è incomprimibile Lui non è che diminuisce di volume, rimane costantemente a questo livello Mentre il tappo potrà... Ah, si è fusa la plastica, perfetto! Mi sto facendo aiutare anche da una candela così abbiamo doppia fonte di calore Eccolo! Ci siamo! Questa è la fisica che ci sta dietro una semplice bottiglia e un accendino, in questo caso anche una candela Spero che questo video vi sia piaciuto Alla prossima!